sono molto contenta di presentare questo libro che vi devo dire mi è piaciuto lo dico subito così sgombro il campo mi è piaciuto molto sia per per la delicatezza e la pulizia della scrittura sia ovviamente perché tocca la mia sensibilità più montanara diciamo così perché l'ambiente lo scenario in cui è ambientato è lo scenario della grande montagna che è la più grande montagna delle Alpi e non solo d'Europa ed è uno scenario realistico apprezzato è molto bello che la montagna viva con naturalezza senza essere vista con degli occhiali speciali come possono essere quelli dell'alpinista per esempio che la vede sempre dal suo punto di vista qui è uno scenario come fossimo a teatro a me a me ha dato davvero anche questa impressione un libro come come un un palcoscenico e queste storie che si intrecciano c'è chi entra c'è chi esce e il fondale è questa grande montagna e magari ecco partiamo da qui che cos'è questa montagna per te e come mai hai deciso di ambientare un romanzo che non è un romanzo di montagna proprio la montagna per me è una presenza fondamentale direi che è una parte della famiglia mettiamola così e è verissimo quello che dici mi piace l'idea che frontiscavo sia un palcoscenico un teatro è vero anche che la montagna al suo interno si muove come personaggio perché occupa veramente tanto spazio mi chiedi perché cos'è per me e io ci sono cresciuta diciamo in quei luoghi ci sono cresciuta e quello che io sento quando quando ci torno è la situazione di casa ed è una bella sensazione il fatto che ci sia sempre un posto che ti aspetta e non lo faccio da da alpinista perché non sono alpinista anzi se devo dire la verità da da qualche anno non sono più neanche così allenata eppure camminare in montagna per me non è qualcosa di performativo non so come dire di qualcosa che che mira raggiungere un obiettivo camminare in montagna stare con la montagna stare nella montagna respirarci insieme è per me è proprio lo stare a casa un luogo di pace un luogo di di meditazione di respiro di entrare dentro come se mi permettesse di stare tranquilla come se mi permettesse mi giurasse che non nessuno mi farà male e quindi io ho tutta la libertà mentre cammino di rendermi anche vulnerabile e lasciare la me stessa guardarsi dentro ecco questo è per me la montagna quindi non c'entra tanto con gli obiettivi o con il raggiungere una cima in particolare è un luogo un luogo familiare quella montagna in particolare aveva ovviamente il fascino per me bambina del del gigante proprio il fascino del della creatura vivente che però non riesci neanche a vedere tutta insieme e dunque sì mi affascinava anche per questo per questo essere gigante addormentato e poi ecco io lo dico sempre questa questo suo questo suo avere un passaggio dentro di sé che da piccola non forse non coglievo fino in fondo quanto fosse voglio dire creato dall'uomo ok mi sembrava che ci fosse un passaggio magico che portasse da qualche altra parte e questo nel mio immaginario era così di bambina ovviamente era era molto forte questo questo passaggio magico che porta da qualche parte sei andata a cercarlo in qualche modo visto che quasi quasi il protagonista di questa storia che racconti mi piace sentir parere curioso che tu parli così della montagna quando tanta gente la vede come invece il luogo il luogo che mette ansia mentre tu ne hai parlato proprio come come i tedeschi potrebbero definire la haimat no eh quel luogo di casa che ti accoglie è esattamente è molto non è così usuale ecco soprattutto per chi non la frequenta eh per perché non ci vive voglio dire le rocce pareti no è molto molto particolare allora senti prima di di addentrarci eh così a conoscere i personaggi che animano questa storia ti vorrei chiedere del titolo no perché eh fronte di scavo è un titolo che suona benissimo e e questo scavo a varie a valenze diverse sicuramente per quello che poi diremo a una valenza molto pratica concreta perché qua eh lo anticipo si sta parlando eh del della galleria che venne scavata sotto il monte bianco eh nei primi anni sessanta e quindi si tratta di una galleria di un tunnel di qualcosa che penetra dentro la montagna quindi è uno scavo in tutti i sensi fisico concreto dall'altro però c'è uno scavo che è di tutt'altro genere di tipo psicologico e e interiore hai voglia di raccontarci qualcosa anche di questo? Sì ehm il titolo è stato scelto proprio perché mh veramente riusciva a unire le due anime del romanzo quella più che descrive come giustamente hai detto tu un progetto reale un progetto che è stato realizzato nella realtà e e una parte invece più interiore del protagonista eh che comunque è legata a questo progetto perché mh dopo ne parleremo magari più in dettaglio se 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 ti andrà e il fatto che Ettore questo il mio protagonista arrivi su questo fronte di scavo con una serie di di convinzioni di convincimenti su se stesso sul suo passato e sul sul suo possibile futuro lo pone già di fronte al fatto che non si aspetta mh un un elemento in più un elemento diverso ok eh lui arriva proprio con una volontà direzionata in maniera molto forte arriva su questo su questo fronte di scavo su questo progetto eh chiamato come ehm come l'ingegnere che sarà affiancato al al capo cantiere e ehm diciamo al direttore dei lavori scusami e quindi eh per lui è un'occasione enorme un'occasione grandissima un'occasione anche che gli arriva in un momento della vita in cui veramente ehm può esplodere questa cosa nelle sue mani può diventare tutto ciò che si immaginava e non si aspetta però di trovare altro lì non si aspetta di dover affrontare uno scavo interiore non non è nei suoi programmi però come le cose che non sono nei nostri programmi lo possiamo vedere anche il nostro malgrado in questo momento a volte ci si può trovare trarre qualche tesoro perché sono cose che che vivono nell'ombra e che saltano fuori d'improvviso e così capita anche per lui in quell'ombra in quell'inaspettato trova delle parti di sé che aveva lasciato indietro vedi c'è un un punto te ne parlavo eh in cui lui esprime molto chiaramente questo questa sua attitudine o meglio questa sua non attitudine a guardarsi dentro c'è un punto in cui lui si trova a fare i conti con un un problema alla caviglia una ferita insomma un un incidente che gli capita durante la lavorazione e ehm viene portato poi se voi ne parleremo da un personaggio particolare a farsi sistemare questa caviglia e lui dice riflette su se stesso e dice ma io non sono abituato no non cioè se qualcuno se non mi avesse portato se non mi avessero obbligato insomma a venire qui io avrei compensato col resto del corpo il male a una parte il guasto a una parte ok molto spesso capita mi è capitato è capitato anche a me nella mia vita di dover tenere una parte eh ferita mh lì come dire eh lasciandola lì senza senza curarla e compensando con tutto il resto col corpo con il il resto di sé per non affrontare quel male ecco invece Ettore si trova a doverlo affrontare quel male perché la montagna e tutto ciò che quello scenario ehm fa emergere lo mettono di fronte al fatto che dentro di sé c'è tantissimo spazio occupato da cose che non gli servono più che vanno elaborate per poter veramente procedere più veloce più spedito anche nella sua vita sì eh tra l'altro tutto ciò accade tu facevi il parallelo un po' con il periodo che stiamo vivendo adesso eh pensandoci mentre parlavi eh rivedevo un po' le scene del libro e in fondo anche quello è un mondo chiuso se vuoi no perché tutto si svolge eh all'interno dei lavori no cioè dentro una una cornice è chiuso sui lavori che vengono fatti su questa montagna che diventa eh quasi eh un'accompagnatrice eh verso un destino che che pian piano sboccia che delle vite che si rivelano eh e però è tutto molto molto racchiuso e come fosse no in un in un contesto piccolo anche se poi appunto si scende in profondo non si non ci si dispiega chissà chissà dove non so come stiamo vivendo noi oggi eh che se riusciamo se le le condizioni ce lo consentono no poi ovviamente ognuno ha la propria alla propria situazione però può essere una buona un buon momento per scendere anziché disperdersi allora adesso rilancio subito sulla 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 trama che di che cosa si parla in questo libro la storia qual è la storia è la storia diciamo di una visione di un progetto che è nato nella mente di di persone che tra l'altro sono realmente esistite e che vivono nel romanzo hanno un loro un loro spazio e eh un progetto che nel nell'idea insomma di chi l'ha affrontato era un anche un periodo storico molto particolare era diciamo dopo la seconda guerra mondiale con un un'esplosione anche degli anni sessanta di eh dell'economia una serie anche con tutte le gli inizi dell'unione insomma europea tante cose era era un movimento ecco questo lo dice anche nel libro lo dice anche nel libro Ettore cioè eh ciò che aveva tanto diviso adesso eh si andava veramente verso un movimento di unione sicuramente c'erano delle motivazioni come ci sono sempre anche economiche anche strategiche politiche di tanti tipi però se vogliamo trarne anche come si può dire la parte più simbolica era comunque unire un andare verso ok non era un un rientrare ok e quindi sicuramente parla di questo parla di questo di questo progetto degli uomini che l'hanno l'hanno realizzato che l'hanno prima visto perché sai cosa io mi sono veramente messa nei loro panni e per eh per l'epoca eh perché poi parliamo degli anni sessanta anzi prima ovviamente anche quando è stata immaginata senza gli strumenti di oggi senza i satelliti senza i computer senza cioè visualizzare un un progetto del genere era eh ovviamente nella montagna più alta sotto la montagna più alta immaginarsi una via così lunga e così eh anche complessa nel nel nella particolarità della roccia che esisteva sotto eh ghiacciai millenari io l'ho trovato qualcosa di veramente fantascientifico ecco cioè veramente l'ho visto come una visione che anticipava poi il lavoro proprio un gettare il cuore oltre l'ostacolo in qualche modo e eh queste persone che avevano che sono Dino Lora Tutino e l'amico Pietro Alaria che sono stati fondamentali nella realizzazione di questo progetto mi sono serviti mi sono serviti per come dicevi tu all'inizio creare questo questo teatro in cui una persona che è Ettore che in realtà non è esistito ma avrebbe potuto esserlo ehm trovasse la sua dimensione ecco è anche una un un racconto sulla ricerca della propria dimensione del proprio passo del proprio passo nella vita e nel lavoro è anche un libro su su un grande progetto collettivo perché sicuramente ci sono tante voci al suo interno ci sono le voci dei minatori che arrivano da tutta Italia per cercare lavoro perché comunque eh a quel in quel tempo insomma all'inizio degli anni fine anni cinquanta inizio anni sessanta la Valle d'Aosta offriva eh molte opere come le dighe piuttosto che appunto il tunnel stesso che quindi mh fornivano molto lavoro e quindi mi immagino anche questi ho letto le storie di questi uomini di questi di questi minatori di questi operai che sono che partivano anche dal sud dal resto d'Italia per andare a trovare il proprio lavoro la propria sopravvivenza e questa è una voce c'è poi la voce dei progettisti la voce di chi come dicevo l'ha immaginato c'è la voce di tutta la Valle d'Aosta del anche del dell'ambiente che che esisteva lì e c'è la voce della montagna perché come dicevo anche prima la montagna è un personaggio la montagna io mi sono chiesto tante volte cosa ne avrebbe pensato lei di 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 un progetto del genere gliel'hanno chiesto non credo eppure era una creatura vivente che si trovava in ogni caso eh suo malgrado protagonista di un un progetto visionario degli uomini e quindi ho cercato di dare voce anche a lei ci sono varie anime ecco però se devo dire le principali sono sono sicuramente queste quindi ci sono due personaggi sicuramente che tu hai preso dalla realtà e che ti sono serviti anche per costruire per tessere eh dei fili di verossimiglianza con quello che effettivamente è accaduto e poi ci sono dei personaggi invece eh di fantasia eh creati da te e questi personaggi sono tutti maschili tranne uno che è femminile eh allora iniziamo dall'unico femminile che c'è questa Nina eh come come hai potuto che o meglio diciamo che che spazio si ritaglia questa Nina in un contesto così fortemente maschile come può essere quello di un cantiere di una grande opera come la chiameremo adesso eh alla alla base della della grande montagna Nina eh sì ha un insomma Nina ha una una storia particolare perché ehm appunto lo dico anche nei ringraziamenti lei non non doveva esserci nel senso che studiando io ho studiato tanto oggettivamente per questo romanzo e parlando con le persone che che questo tunnel avevano conosciuto e che ci avevano lavorato tra cui il primo direttore di esercizio che è stato direttore di esercizio per quarant'anni insomma persone che sapevano di cosa stavano parlando tutti mi dicevano comunque nei cioè sul cantiere è difficile trovare una donna che gestisca nel mio caso l'ho resa diciamo come si può dire in quel momento cameriera nel nella grande mensa e quindi a livello così mh storiografico diciamo è una piccola forzatura però ci poteva stare ovviamente non potevo farla soggiornare lì non poteva cioè era tutto era tutto una ricerca è stata tutta una ricerca di un equilibrio e di una di un qualcosa di realistico che però mi permettesse di avere la mia Nina lì su quel in quel cantiere perché ci tenevo ci tenevo al suo sguardo ci tenevo alla sua voce ci tenevo alla sua presenza e quindi è come sai quando prepari tutte le cose per cercare cioè come si può dire c'è un detto che dice se vuoi qualcosa la strada la trovi quindi io volevo che lei ci fosse ho cercato la strada a livello narrativo più realistica possibile detto questo Nina è quello che Ettore non riesce a essere cioè una donna molto coraggiosa riesce a guardarsi dentro con una particolare nitidezza e una particolare lucidità e non ha paura di ciò che da questo dentro e da questo passato emerge è una donna che è lì con suo figlio una donna sola che è lì con questo ragazzino questo bambino che si chiama Arturo e sicuramente anche la presenza di questo bambino all'inizio non doveva essere cioè non è stato facile ecco inserire anche questo all'interno di una narrazione realistica di un cantiere prende il suo spazio trova il suo modo ed è però secondo me fondamentale come dicevamo anche per portare un'energia diversa in quel luogo portare un'energia anche femminile non so ed è sicuramente il personaggio che più riesce a far riflettere Ettore sul suo modo di vivere perché è ovvio che Ettore all'inizio quando tutto quello che vede tutto quello che sente anche questa montagna che in qualche modo gli parla arriva Ettore diciamo ovviamente si chiude come di fronte a un pericolo come di fronte a quello che dicevo prima qualcosa all'inaspettato perché di fronte all'inaspettato ci chiudiamo tutti è una reazione animale una reazione istintiva e anche lui non sa come gestirla e quindi preferisce appunto spostare la sua attenzione sul suo lavoro sulla sua razionalità su cose che può controllare saranina ovviamente con la sua presenza e anche col suo essere molto centrata in sé sul suo non cercare niente perché lei non cerca niente lei non vuole Ettore non vuole nessuno non le interessa lei ha la sua vita da vivere economa indipendente e soprattutto ha una sua anche missione una sua vocazione lei è lì a fare la cameriera in quel momento della vita ma lei non è una cameriera non che ci sia niente di male nell'essere una cameriera ma quello che voglio dire che lei è moltitudine come tutti noi quindi in quel momento della vita fa quello ma lei è altro e questo altro la richiama in maniera fortissima questo Ettore che abbiamo citato più e più volte che è proprio nelle prime pagine lui lui afferma questo di occuparsi di vie che ancora non esistevano era il mio mestiere e mi piace questa 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 frase perché anche lì rientra ritorno nella grande capitolo scavo le vie che non esistono dentro la montagna le vie che ancora non esistevano che non aveva ritrovato dentro di sé chi è questo Ettore? Ettore allora Ettore è un uomo che ha che ha sofferto nella sua adolescenza e che ha avuto proprio un un trauma forte che non raccontiamo magari questo nel dettaglio però che diciamo l'ha cristallizzato lì è una la preadolescenza l'adolescenza insomma sono età molto particolari e molto difficili chi c'è anche qua un'altra frase che di cui sono citazionista ma senza ricordarmi gli autori quindi è un peccato vabbè però che mi è sempre rimasta un po' che chi non non passa un'adolescenza chi passa un'adolescenza serena non diventerà mai veramente grande non so come dire e infatti è vero l'adolescenza va va in rottura con tutto quello che c'è prima e getta le basi per tutto quello che ci sarà dopo nel suo caso c'è stata proprio una una rottura ok e quando ci sono traumi di quel genere a quell'età è un po' come se tutto diciamo a meno che la persona riesca veramente a lavorare su di sé con mille strumenti con gli strumenti più diversi ma se la persona come in questo caso Ettore si rifugia da un'altra parte cioè si rifugia nel suo studio nel suo lavoro nella sua razionalità quella ferita rimane lì e non guarisce per sempre è una cosa che ti porti dietro un peso che un peso morto che ti porti dietro questo probabilmente c'è anche molto di me in Ettore in questo in questo posso dirlo sicuramente insomma c'è questa ferita questa ferita così questo peccato originale e lui lo sa lo sa nel senso che ne è consapevole ma non l'affronta come come dicevamo e inizia a studiare a studiare ingegneria perché perché vuole ritrovare almeno almeno in parte un dialogo con un padre che non l'ha mai che non ha mai sentito veramente vicino nella famiglia d'origine di Ettore ci sono sicuramente tante cose disfunzionali che che succedono però la principale questa specie di schieramento che avviene con una madre che tiene sotto sotto nel suo nido questo Ettore un padre che invece segue più il fratello e questa madre anche che soffoca Ettore che non lo fa crescere e mentre lui aspira a una vicinanza con questo padre quindi inizia a studiare ingegneria per questo cerca le vie che non esistono proprio per questo però questo possiamo dirlo perché succede nelle prime pagine quindi non svelo nulla di così insomma importante il padre muore il padre muore mentre lui sta ancora studiando e quindi sai capita come quando hai un progetto anche qua e poi ti trovi cioè le condizioni cambiano anche forse l'idea centrale che ha mosso verso quel progetto cambia e quindi Ettore può fare due cose a quel punto può dire vabbè basta è andata e e trovare tutt'altra strada però potrebbe farlo secondo me solo se veramente allora quel punto si chiedesse io cosa voglio in realtà Ettore non lo fa quell'età non lo fa continua a studiare è un senso del dovere molto forte siamo anche in un'epoca diversa e diventa ingegnere ovvio che tutto quello che aveva fatto cioè tutto quello che si immaginava di dover fare per avvicinarsi a questo padre che era questo famoso ingegnere appunto non serve più però sempre ricollegandoci a quello che dicevamo prima da quell'inaspettato da quell'inaspettato doloroso trae qualcosa che gli può essere utile lui impara capisce che ha un amore per le gallerie per il fatto di entrare in un posto buio e trovare una luce dall'altra parte arrivare fino a trovare un barlume di luce in un altrove che non sa neanche magari dov'è ecco quindi sicuramente questo è in poche parole è il mio Ettore il mio Ettore che arriva però su questo su questo scenario naturale e di lavoro molto particolare e si lascia cioè il suo malgrado si deve lasciare sorprendere da una serie di cose che non si era aspettato si lascia sorprendere si lascerà si lascerà cambiare da quello che accade e una curiosità che non posso non posso esimermi da farti questa domanda ma è come è come è stato immedesimarsi in un ingegnere dei primi anni sessanta in anni cinquanta primi anni sessanta quindi insomma un mondo tutto diverso un giovane rigoroso razionale dal punto di vista proprio dell'empatia come 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 è avvenuto questo questa identificazione perché Ettore è un io narrante a tutti gli effetti ti faccio ridere forse perché ci sto riflettendo adesso in realtà forse perché sono anch'io un po ingegnere anni sessanta con tutte le sue rigidità in realtà sì no è una battuta ma fino a un certo punto nel senso che quella sua quella sua rigidità è stata molto anche la mia quindi ecco l'anima profonda di Ettore è stata per me a fine ecco è stato un qualcosa che io sono stata per molto tempo questa gabbia protettiva questo guscio questa volontà feroce e questa razionalità insomma così tenuta come bandiera o comunque tenuta come ancora anche di salvezza è stato molto mio e quindi in questo l'identificazione è stata abbastanza facile ovvio che c'era tutto il resto a livello invece torniamo sul narrativo il lavoro non è stato semplice nel senso che è vero dovevo rendere credibile una voce maschile credibile una voce maschile di un ingegnere degli anni di inizio anni sessanta e quindi ecco quello sì in quello mi ha aiutato tanto leggere i documenti dell'epoca scritti da ingegneri degli anni sessanta quindi ecco quello è stato a livello diciamo proprio più storico più narrativo il lavoro però credimi il cuore narrativo cioè il cuore emotivo del personaggio io ce l'ho e quindi è stato meno difficile di quanto mi mi aspettassi ecco ovvio ci doveva essere poi un lavoro sulla credibilità in questo vabbè sicuramente mi ha aiutato anche tanto in Audi sul fatto di magari pulire alleggerire abbiamo lavorato in ogni caso anche se il libro era quello però abbiamo lavorato magari pulendo alcune cose e quindi ecco sì diciamo il cuore c'era andava un po' reso assolutamente credibile in quella scena cristallino per quanto riguarda gli altri personaggi beh naturalmente c'è un grande personaggio bel personaggio che è Hervé il capocantiere che diventa un po' un uomo con cui Ettore dialoga no? un proprio un sono i due esatto un alter ego però in realtà ed è interessante perché attraverso attraverso Hervé Ettore impara a conoscere la montagna esatto no? impara a sentire la voce della montagna il ritmo della montagna ehm questo questo aspetto appunto del della comunicazione con questa entità naturale eh minerale no? eh come come avviene grazie a questo a questo scambio con Hervé che è il il capocantiere del dello scavo eh allora Hervé lo devo dire subito è il mio personaggio preferito nel senso che eh mi è piaciuto tanto scriverlo anche perché è molto distante invece da me ha questa questa saggezza e questa pace che io non so se avrò mai me lo auguro insomma però non lo so e è veramente un personaggio che mi è piaciuto scrivere eh lui chi è appunto come giustamente dicevi è un capocantiere valdostano che mh accoglie l'avvenuta di questo nuovo ingegnere che appunto è Ettore eh con insomma sentimenti contrastanti allora giusto per chiarire ovviamente Ettore a livello narrativo arriva nella storia appena prima dell'estate del 61 ma questo cantiere già esisteva esisteva dal 59 quindi comunque ehm Hervé era lì da prima aveva una un ruolo inferiore perché a livello gerarchico ma era lì da molto prima e poi era un valdostano e quindi comunque quell'ambiente lo conosceva gli uomini erano i suoi quindi aveva tutta una serie di ovviamente di caratteristiche che poi cozzavano contro invece un ingegnere giovane brillante venuto a quasi sulla fine dei lavori proprio per un cambio di dirigenza chiamato dal direttore dei lavori e accolto con tutti gli onori milanese che della montagna non sapeva niente quindi è ovvio già 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 con questi elementi partiva proprio sotto zero esatto c'è già veramente era così non partiva non partiva col piede giusto diciamo però diciamo che Hervé gli dà una possibilità gli dà una possibilità e dove gliela dà gliela dà portandolo in montagna perché poi mi è piaciuto anche scrivere questo il fatto che ma non la porta in montagna per fare una gara attenzione cosa che invece Ettore ovviamente che arriva tutto performante io arrivo prima faccio con una persona che invece in montagna ha cenato insomma ecco Ettore ovviamente con questa ingenuità la mette subito sul piano della gara sul piano fisico e invece Hervé arriva con la sua tranquillità la tranquillità del giusto e nulla e vede come si comporta Ettore in montagna cosa gli dice che passo ha come si muove che rispetto ha per quello che che vede intorno sai sono tante cose che si possono capire dal contatto dal vedere un uomo a contatto con la natura secondo me ci sono cose interessanti che si possono accogliere e Hervé fa proprio così permette a cioè non lo mette alla prova lui lo fa mettere alla prova da qualcuno di più di più forte di più antico e nulla però alla fine c'è un'anima in Ettore molto buona e molto pura e Hervé questo lo vede lo sente sente che c'è tutta una sovrastruttura di che arriva prima ovviamente di appunto di razionalità di quello che dicevamo prima dell'essere della volontà del ok del fare bene il proprio lavoro che va anche benissimo che però dietro c'è anche tutta una parte più umana molto più così affine anche a quell'ambiente e anche Hervé e quindi Hervé cosa fa lo è Hervé stesso tra l'altro che fa che lo accompagna come van detto forse abbiamo accennato all'inizio da Samuel che è questo guaritore che lo aiuta che aiuta Ettore a ritornare in piedi dopo questo incidente alla caviglia Hervé tiene molto a Samuel è una persona che gli ha salvato la vita in molti modi e presentarlo a Ettore è sicuramente un come si può dire un elemento evidente della fiducia che sta che sta nascendo perché sai è un po' veramente come è un suo segreto cioè lo mette a parte di qualcosa di estremamente intimo è estremamente suo esatto come quando apri un po' sai inizia a conoscere una persona gli mostri il tuo scrigno con dentro le case speri che reagisca bene speri che reagisca come vuoi tu perché se poi invece magari ridicolizza una cosa che per te è importante o non la capisce o si pone in maniera violenta o lì crolla tutto cioè proprio come un inizio di costruzione di un castello di carte che veramente crolla invece Ettore supera la prova supera la prova perché pur non avendo la stessa la stessa energia insomma all'inizio di Hervé però come dicevo ha un nucleo che gli è molto simile a fine e la loro amicizia direi che è la cosa principale di questo libro tanti parlano di Nina ne abbiamo parlato anche noi per me Nina è un personaggio fondamentale ma a livello di personaggi il cuore è la costruzione dell'amicizia tra Ettore e Hervé questo sicuramente anche perché senza dire di più il libro si chiude su quello quindi voglio dire certo certo sì sono da lettrice sono d'accordo con te sono i due i due grandi personaggi Nina io l'ho percepita come come con lei che innesca lei porta delle energie quindi innesca dei processi su piano narrativo ha una funzione che non è quella sicuramente minore rispetto a quella di Hervé hai citato Samuel che è un altro personaggio molto locale molto di montagna molto un po il così l'uomo l'uomo semplice saggio della montagna che che si dà con il proprio sapere no e che può essere utile e porta quel qualcosa in più anche questo fa parte di una non voglio svelare troppo no su 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 quello che il suo la sua il suo ruolo nel libro ma lo hai lo hai ripreso da esperienze tue vissute direttamente come come già forse dicevi all'inizio sì in Valle d'Aosta c'era un re bello era un guaritore insomma mettiamola così molto molto famoso che si chiamava rolando e mi ha sistemato quando ero ragazzina il ginocchio perché ero caduta da un albero agli scout e e quindi non avevo messo il gesso e tutto mi ero curata in maniera tradizionale però in ogni caso tolto il gesso non camminavo ancora bene c'era ancora qualcosa che non andava e i miei mi portarono appunto da lui e mi ricordo quest'uomo io però bambina quindi figurati mi ricordo quest'uomo enorme veramente quest'uomo enorme con queste mani enormi e sicuramente è tutto mediato dal ricordo di bambina però ecco ricordo veramente questa imponenza e pure questi occhi dolci buoni di quest'uomo che si faceva pagare tra virgolette solo con la grappa lui non accettava soldi per questo suo questa sua cura non so come dire questo suo è una specie di osteopata mettiamola così questo suo massaggiarti giusta ossa non accettava soldi perché per lui era insomma era un dono quindi comunque doveva donarlo ovviamente accettava la grappa quella sì e la usava per massaggiarti e la usava anche per bere insomma aiutava tutto però era un personaggio bellissimo che io ho trovato che mi ha sicuramente colpito come tutte le cose che incontri da bambina e però che è rimasto nella mia nel retro della mia memoria e che quando appunto ho iniziato a scrivere questo libro è tornato fuori prepotentemente quindi ne ho scritto ecco sì sicuramente si è conquistato un posto tra i tra gli attori protagonisti perché è un personaggio molto efficace e senti sarà forse perché sono riduce da un grande lavoro che mi ha impegnato nella consultazione di documenti di archivi per cui sono molto sensibile a come tu abbia potuto sia riuscita a costruire no a costruire un sapere per avvicinare in modo impeccabile e parlare in modo impeccabile di un argomento molto tecnico come tutte le descrizioni che fai del lavoro che si svolge nel ventre della montagna quindi perché poi succedono tante cose in questa montagna più o meno improvvise più o meno difficili da gestire però sicuramente c'è una parte del libro che è estremamente tecnica scientifica sia dentro la montagna che fuori dalla montagna nella descrizione di come le misurazioni furono prese e quindi volevo chiederti come hai fatto per documentarti su tutto questo allora quando avevo quando iniziato con a immaginare questa storia comunque sapevo di dovermi documentare molto perché avevo paura di ovviamente di non essere accurata e quindi innanzitutto ho chiesto a delle persone che avrebbero potuto consigliarmi dei testi e magari ripresentarmi persone che ovviamente magari che avevano partecipato alla lavorazione era un po' difficile vista appunto la risalenza nel tempo però per esempio appunto come dicevo ho conosciuto il primo direttore di esercizio che insomma adesso è molto anziano però con cui ci sentiamo spesso anche via mail ed è una persona adorabile che mi ha aiutato tantissimo insomma ho cercato proprio di con tutta l'umiltà di entrare in un mondo che non conoscevo minimamente e di parlare con le persone che invece lo conoscevano e ho letto tantissimi libri diciamo quello che amo più ricordare questo di pietro all'aria che questo geometra è una figura bellissima io trovo questo geometra che chiamato appunto da chiamato alle armi mettiamo così da dino lora totino che era questo industriale piemontese padre un po' mente del tunnel è arrivato col suo essere geometra con la sua professionalità e si è messo a fare le misurazioni per la diciamo definire la direzione dello scavo una cosa delicatissima perché se due squadre scavano da due parti si devono incontrare con una certa precisione cioè non si può è delicato e non essendoci appunto come dicevo satelliti o triangolazioni possibili fatte al computer o che che adesso magari sarebbero una cosa molto semplice all'epoca si doveva andare sulle cime e fissare dei punti di visibili di per riuscire a misurare degli angoli che dessero poi la direzione dello scavo non so come dire è difficile da spiegare però si chiama triangolazione ovviamente esatto e quindi diciamo che immaginarsi questo geometra che innanzitutto di fronte a un lavoro del genere non si tira indietro ma dice cioè ragiona prima di tutto ragiona con l'umiltà anche della sua professionalità ma dice ce la posso fare lo so fare e che poi si mette uno zaino in spalla e con i portatori arriva a scalare tutte le levette del massiccio da parte italiana da parte francese questi pali di traguardo questi queste cose visibili in modo da poter misurare con il teodolite a livello ottico delle cose che delle misurazioni delle operazioni che oggi faremmo assolutamente sarebbe impossibile farle veramente a mano e una cosa curiosa tra l'altro è che tutti i calcoli poi sono stati fatti in africa perché quando le questa è una cosa curiosa la prima triangolazione di pietro laria viene fatta quando ancora dino l'ora totino non ha i permessi cioè lui gli dice inizia a misurare tanto il tunnel lo scaviamo sicuro guardano non è che hanno detto sì ma è un tunnel lo scaviamo la questione è che c'era un confine di stato cioè quella montagna non era solo una montagna tra l'altro la montagna più alta no era anche confine di stato diciamo dopo la seconda guerra mondiale ma vabbè e quindi loro hanno iniziato a scavare iniziato a fare queste triangolazioni però ovviamente poi giustamente qualcuno ha alzato la mano ha detto esattamente cosa state facendo quindi si è tutto bloccato in quel momento pietro laria con tutte le sue misurazioni fatte a mano con tutto il suo quaderno di appunti se ne parte per l'africa perché viene chiamato a fare delle anche lì delle misurazioni per una serie di progetti anche appunto ovviamente era un periodo anche questo particolare della storia quindi vabbè viene viene chiamato lì e fa tutti cioè tutti i calcoli a lume di candela e la notte in questo in questo luogo particolarissimo infatti di infatti poi lo dice anche di noto tino è stranissimo pensare che poi i calcoli sono per questo tunnel che scava sotto la roccia e tra i ghiacci sono stati fatti al caldo dell'africa insomma è una cosa che ho trovato molto molto particolare ci sono ci sono mille aneddoti reali di questi personaggi che mi hanno affascinato quasi romantico il mio diciamo così il mio retroterra di cultura storico alpinistica mi ha subito fatto mettere a fuoco che stiamo parlando del 1961 e 62 d'estate pensa nel luglio del 61 in quegli anni lì il grande alpinista del momento era Walter Bonatti che il monte bianco era il regno di Walter Bonatti proprio nel luglio 61 ci fu la grande tragedia del pilone centrale del franei con una cordata italo francese e nel 62 a un anno di distanza quando poi venne effettivamente gli italiani francesi si si incontrarono Bonatti e Masò cioè i due capi cordata delle due cordate che furono investite dalla tempesta l'anno precedente siglarono tracciarono una via che si chiama proprio la via dell'amicizia no quindi c'era quasi quasi un contraltare tra quello che accadeva sotto e quello che accadeva sotto è vero bellissimo molto bello davvero che chiudiamo con un con un pensiero ecco riguardo a questo libro quando quando hai messo quando hai sentito di averlo concluso come è successo come questo libro per me è stato molto molto importante è stato importantissimo per per molti motivi il primo che forse lo dico qua per la prima volta è perché io avevo attraversato un periodo molto difficile e pensavo di smettere di scrivere insomma basta una cosa che mi mi non so mi sembrava inutile in quel momento attraverso un veramente un momento brutto difficile quindi però questi personaggi non mi hanno abbandonato ecco sono stati loro io avevo iniziato a fare le ricerche avevo iniziato a scrivere c'è stato un momento in cui però per motivi esterni tutto mi sembrava senza senso ma sono stati loro a resistere non so se posso dirlo in maniera così così strana resilienti sono stati resilienti soprattutto non non si sono arresi al fatto loro volevano esistere volevano esistere sulla pagina e quindi devo dire che riprenderli in mano mi ha dato una grande forza una grande idea che questa cosa poteva poteva esistere poteva essere reale e soprattutto che questa storia poteva raggiungere anche altre persone e poi vabbè c'è stato c'è stato il grande sogno realizzato del pubblicare con Einaudi e questo è stato forse uno dei giorni più belli della mia vita quando quando ho saputo che avrei pubblicato con loro non ma più che altro perché veramente era un sogno di bambina e pensare di di che quelle parole che tanto avevo amato e che tanto mi avevano salvato sarebbero state contenute in quei libri bianchi che tanto amavo insomma era un po la chiusa giusta di quel percorso grazie a tutti